Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'ammigliamento in lana Merinos sia da uomo che da donna del marchio Degaton, quindi probabilmente il più economico che potete trovare in giro. Nel particolare vedremo pantalone, maglia e sotto giacca. Perciò iniziamo col video. Iniziamo come al solito dai pantaloni. Modello maschile abbiamo il pantalone in lana Merinos chiamato MT900. Modello femminile abbiamo il modello Trek 500. Attenzione perché sono due modelli completamente diversi, adesso naturalmente ve li raccontiamo e come vedrete ci sono dei pregi e difetti in ogni o dei due. Inizio a raccontarvi io quello da uomo, è un pantalone in lana Merinos felpato che ha un'ottima termicità, io lo utilizzerei tranquillamente fino a meno 5, se volessi stare fermo, meno 10 in movimento. Ha un buon range di temperatura perché comunque dai meno 10 che vi dicevo lo utilizzerai fino ai 5 gradi quindi il range di temperatura è abbastanza buono. Mi ci sono trovato veramente bene, soprattutto la termicità è uno degli aspetti che più mi ha convinto di questo pantalone. Meno bene il pantalone da donna, meno bene perché questo pantalone è molto diverso da quello da uomo. Mentre quello da uomo è infatti pensato per le escursioni invernali, questo qua da donna è pensato per tutte le quattro stagioni. La differenza principale con quello da uomo è infatti che questo pantalone non è felpato ma è molto sottile e molto traspirante. A livello di tessuti penso di dire sia da uomo che da donna ci siamo, nel senso ho utilizzato veramente spesso, lavato più e più volte naturalmente seguendo le indicazioni dati da Decathlon, il prodotto non si è mai sfibrato, non ha mai perso pallini, non si è mai rotto. Quindi diciamo che la qualità dei materiali è abbastanza buona. Cosa un pochino meno buona, almeno per il modello maschile, sono le cuciture. Nel senso che, essendo fatte anche all'interno, nella parte interna, ogni tanto creano un po' di fastidio, soprattutto quando magari strusciamo, eccetera, mi ha dato un pochino di irritazione la cucitura, soprattutto quelle sulle cosce. Anche per la donna le cuciture non sono il massimo. Diciamo che a fine giornata può capitare di avvertire una sensazione di prurito e soprattutto all'altezza delle ginocchia sono particolarmente spesse e proprio tendono a dar fastidio. Quindi ecco, le cuciture le avrei fatte meglio. Perciò, tiriamo le conclusioni per questi pantaloni in lana Merinos. Allora, modello da uomo, come dicevamo, MT900, costa 60 euro. Ve lo consiglio, sì, dai, al fine il materiale è abbastanza buono, va bene ogni tanto sfrega, però nel complesso io mi sono trovato abbastanza bene. Quindi, visto che è anche il più economico che si può trovare sul mercato, secondo me le prestazioni sono consone al prezzo. Quindi, sì, dai, io personalmente il modello da uomo ve lo consiglio. Il pantalone da donna, il Trek 500, sinceramente invece non ve lo consiglio. Il costo è di 40 euro. Secondo me per l'inverno, come vi ho detto, non va bene perché non ha una sufficiente termicità. Quindi ve lo consiglierei soltanto per l'estate, se volete appunto un pantalone in lana Merinos. Parliamo ora della parte superiore della maglia, in particolare il modello MT500. È un modello col quale io mi sono trovato abbastanza bene, come termicità passiamo dai meno 5 ai 7 gradi. Sinceramente mi sono trovato bene soprattutto tra gli 0 e 5 gradi perché poi magari sono io che sono un po' caldo come persona, ma l'ho utilizzato anche senza avere secondi strati o giacche sopra. Quindi io mi sono trovato molto bene. A livello di cuciture, sulla parte superiore non ho avuto nessun problema, sono fatte all'esterno. Non ho avuto punti di pressione, punti in cui potevo avere sfregamenti e via dicendo. Il materiale a sua volta è fatto decisamente bene perché anche qua lavato e rilavato non ha perso nulla. Il tessuto non si sta sfibrando, quindi è fatto molto bene. In generale poi la vestibilità è slim, quindi comunque aderesce bene al corpo. Che direi, io mi ci sono trovato veramente molto bene, probabilmente questo è forse il capo migliore della set che stiamo provando. Quella da donna? Quella da donna, a differenza di quella da uomo, ha una vestibilità un po' più regular, quasi oversize. Infatti la mia è particolarmente lunga, sia di maniche, sia come altezza del busto. Anche io ho apprezzato la sua termicità e la proprietà della lana Merinos di regolare automaticamente la temperatura corporea del nostro corpo. In particolare ho apprezzato il fatto che con questa maglia non sentiamo mai la sensazione di bagnato del sudore addosso. Mi spiego meglio. Solitamente con i tessuti sintetici, quando noi sudiamo, il sudore rimane appiccicato addosso, appiccicato al corpo. Sentiamo proprio quella sensazione di sudore freddo sulla pelle. Con la lana Merinos invece questo non accade. Noi sudiamo, però il tessuto si mantiene asciutto. E questa sensazione di comfort, secondo me, è veramente utile nel momento in cui andiamo a fare delle escursioni, sia in inverno sia in estate. Altro plus di questa maglietta è il fatto che neutralizza tantissimo i cattivi odori. Quindi nel momento in cui noi andremo a sudare non avremo problemi di cattivi odori e questo secondo me è sempre positivo. In generale, dunque, vi consigliamo questi modelli MT500 maglia invernale lana Merinos. Allora, io personalmente ve lo consiglio, perché comunque è venduto su un prezzo di 45 euro. Non penso che online ci siano dei modelli in lana Merinos che costano così poco, però le prestazioni sono veramente buone. Secondo me ha un ottimo rapporto qualità-prezzo questo capo. Anche la maglia da donna io ve la consiglio, anche perché dovete pensare che state andando a prendere un capo, appunto per 45 euro, che vi durerà nel tempo e che utilizzerete in tantissime occasioni. Quindi ve lo consiglio caldamente. Passiamo ora al sottogiacca MT900, sia da donna che da uomo. Questo sottogiacca personalmente non mi ha tanto convinto, il motivo è soprattutto la termicità. Viene dato come abbigliamento invernale, ma io non lo utilizzerei sotto i 10 gradi. Forse mi spingerei magari sui 7, nel caso avessi sotto la maglia in lana Merinos che abbiamo appena visto, ma non penso che è un capo abbastanza pesante per essere considerato invernale. Troviamo due grammature diverse per quanto riguarda la lana Merinos, nel senso che sulla parte frontale troviamo una grammatura maggiore per proteggerci di più dal freddo rispetto che le braccia. E sempre sulla parte frontale, sulla pancia, troviamo delle parti in mesh che vanno anche ad isolarci, diciamo, dal vento, se dovessimo magari trovare del vento particolarmente freddo frontale. Per quanto riguarda la termicità concordo con quanto detto Riccardo, infatti sul sito di Decathlon è indicato che questo capo va bene fino ai 10 gradi in movimento. Andiamo ora un po' a descrivere il capo. Troviamo tre tasche, di cui due all'altezza della vita, una a destra, una a sinistra e un'altra, la terza e ultima, all'altezza della pancia. Questa ultima tasca non la trovo particolarmente comoda, però meglio averne una in più piuttosto che nulla. Sulle maniche troviamo invece il passante del pollice nel caso in cui volessimo utilizzarlo e nel caso in cui facesse particolarmente freddo. E infine abbiamo un collo abbastanza alto che ci protegge molto bene dal freddo. A livello di materiali questi due capi non sono fatti male, come il resto della collezione non si sono sfibrati, non si sono rotti, quindi vanno bene. Qua le cuciture sono fatte all'interno ma perché non è pensato per essere messo a contatto con la pelle, quindi diciamo che materiali ci siamo. Per quanto riguarda la vestibilità è abbastanza slim e questo capo non presenta neanche un cappuccio, che penso di parlare il nome di entrambi, l'avremmo particolarmente gradito su almeno il secondo strato. In conclusione per quanto riguarda questo sottogiacca ve lo consigliamo, allora non tanto, nel senso è fatto veramente bene, ma per i 70 euro che è il prezzo al pubblico mi sarebbe aspettato comunque una termicità maggiore, una temperatura a meno di 5 gradi se non addirittura zero, quindi ni, diciamo ni, sicuramente se lo comprerete vi troverete bene perché i materiali sono fatti bene. Quello che davvero ci è rimasto un po' qua è la termicità, mi sarebbe aspettato decisamente qualcosa di più. Esattamente, come dice Riccardo, dobbiamo fare attenzione nel momento in cui andiamo ad acquistare questi capi perché dobbiamo sempre pensare dove, a quali temperature li andremo a utilizzare. Ultimo appunto, i colori. Dispiace ma ancora una volta Decathlon con i colori fa un pessimo lavoro, speriamo che in futuro vada migliorando. Perciò, in conclusione generale, tutto il kit d'abbigliamento, il lana Merinos invernale di Decathlon. Cosa ne pensiamo? Sicuramente è fatto bene, la lana Merinos, anche questa qua di Decathlon, è un buon materiale, è duraturo, sono capi che se li comprate oggi e li lavate soprattutto bene andranno avanti per davvero tanto tempo. I prezzi sono quelli da lana Merinos, quindi sicuramente vi sembrano un po' alti, ma se andate a vedere anche la concorrenza, i prezzi sono comunque quelli, proprio il materiale che costa decisamente di più. In generale, diciamo che mi sarei aspettato qualcosa di più, proprio da tutto il kit per quanto riguarda la termicità. Secondo me, questo kit va bene se siamo persone che vanno tra gli 0 e i 10 gradi. Qualcosa sotto gli 0 ancora ancora, ma non oserei andare proprio sotto i meno 5. Per il kit da donna, confermo le considerazioni di Riccardo, l'unica cosa, il pantalone, vi sconsiglio di acquistarlo se volete utilizzarlo nel periodo invernale, perché non è semplicemente pensato per questo. Detto ciò ragazzi, noi nella esperienza siamo stati esaurenti e sostivi anche per questo video, vi ringraziamo per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!